Nel corso della notte, alle ore 2 circa, presso il locale CIE per stranieri irregolari di Pian del Lago, si è verificata una rivolta messa in atto da un consistente numero di cittadini tunisini, ivi trattenuti. Secondo una tecnica ormai collaudata, una cinquantina di stranieri, dopo essersi diretti verso la recinzione che delimita il centro, cercavano in più punti di arrampicarsi contemporaneamente. In molti, spalleggiati da altri stranieri che lanciavano oggetti di vario genere all'indirizzo dei poliziotti e militari di vigilanza, riuscivano a scavalcare la recinzione ed armati di aste di alluminio ottenute dal danneggiamento degli infissi, si scagliavano contro lo schieramento delle forze di polizia, polizia di stato, carabinieri ed esercito. L'intervento immediato delle forze di polizia inviate di rinforzo al centro scongiurava la fuga in massa e dopo qualche ora riportava alla calma la situazione. Al termine della rivolta, due stranieri, approfittando della confusione del buio, riuscivano a scavalcare anche la rete esterna di recinzione della struttura, dileguandosi nelle campagne limitrofe.